c'è un tipo che è lì fuori da un grattacielo di 30 piani e vede uno che si butta rimbalza tutto, allora va al tipo e gli chiede al maschino ma come fette, eh no, te quando scendi di concentrati che sei una palla e poi rimbalzi no, allora il tipo casatissimo va in cima e pro anche lì no, allora scende su una palla 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 arriva a casa in fondo, figa il gay, schizzo, se fosse una merda questa è sempre bellissima ma come la racconta lui, cioè, davvero